Ciao a tutti e benvenuti! Siete pronti per l'episodio più avvincente di Terra Amara? Oggi vi sveleremo un'anticipazione che vi terrà con il fiato sospeso. Nella trama incalzante di Terra Amara siamo rimasti con Beice allontanata dalla dimora di Fecheli, dopo essere stata accusata da Zuleia della morte di Unkar. Beice, decisa a vendicarsi, ingaggia un uomo per inscenare un finto pestaggio. Tuttavia, il suo diabolico piano non andrà come previsto, mentre chiede all'uomo di spararle a un braccio, un cane improvvisamente compare, spaventandola e facendogli mancare il bersaglio. Il proiettile colpisce infatti Beice al petto, facendola crollare a terra in agonia, mentre implora l'uomo di condurla in ospedale. Ma le sue suppliche vengono ignorate e l'uomo fugge, lasciando la zia di Mujgan nel bosco, in fin di vita. La scena si sposta ora a casa di Fecheli, dove l'uomo è insieme ad Yilmaz. Fecheli gli confida tutto il suo profondo dolore per la perdita della amata Unkar. Proprio in quel momento arriva Mujgan, che con uno sguardo di sfida, chiede a Yilmaz se ora sia felice che Fecheli abbia allontanato Beice da casa. La dottoressa ribadisce che la zia era l'unica a sostenerla, e ora si trova completamente sola. Yilmaz, in risposta alle sue parole, le suggerisce che se vive una situazione così opprimente, può tranquillamente optare per il divorzio, poiché nessuno la sta obbligando a restare. Poi Yilmaz esce dalla stanza, e Mujgan rimane immobile per qualche istante, con lo sguardo carico di rancore e rabbia. Raggiunge la sua stanza, e con rabbia prende una valigia, e la riempie rapidamente con i suoi vestiti. In quel momento, a casa di Fecheli arriva anche Fikret, e nota immediatamente la presenza di un taxi. Poco dopo, vediamo Mujgan intenta a portare le valigie fuori casa, decisa ad abbandonare per sempre la tenuta. Fikret, vedendola con i bagagli, la ferma subito, implorandola di non fare sciocchezze di cui poi si possa pentire. Mujgan gli confessa che il suo orgoglio e la sua dignità sono stati cancellati, e che Yilmaz la tratta con sufficienza da troppo tempo, non può più sopportare una situazione del genere. Li vediamo quindi salire in macchina e continuare la conversazione. Durante il viaggio, un po' più tranquilla, racconta Fikret come si sente, ma improvvisamente un dettaglio attira la sua attenzione. Dal finestrino dell'auto, scorge una valigia abbandonata nei pressi dell'aeroporto. Immediatamente, capisce che qualcosa è accaduto, fa fermare la macchina a Fikret, riconosce subito che si tratta degli effetti personali della zia, ma lei non si trova. Impreda al panico e preoccupata, comincia ad agitarsi e a chiedersi cosa possa essere successo alla zia. Fikret cerca di calmarla, ma è evidente che anche lui è inquieto per questa situazione anomala. Decidono di tornare alla villa di Fecheli. Appena arrivano, Fikret chiede di vedere Fecheli. Ma nessuno dei due si trova in casa. Fikret chiama subito i collaboratori di Fecheli e ordina loro di cercare Fecheli ovunque ed informarlo dell'emergenza in corso. Poi chiama Yilmaz all'azienda e gli racconta dell'avvistamento della valigia abbandonata vicino all'aeroporto e comunica anche che Mujgan ha bisogno di lui in questo momento critico e gli chiede di tornare immediatamente a casa. Appena Yilmaz esce dall'ufficio, si imbatte in Fecheli che stava per entrare. Yilmaz informa subito Fecheli di quanto accaduto, aggiungendo che probabilmente Beice ha messo in scena tutto e che sicuramente non è successo nulla di grave. Fecheli, con tono pacato, avverte Yilmaz di non trarre conclusioni affrettate e che solo quando la troveranno, avranno la certezza di quello che è successo. Tuttavia, ammette che ci sono molte probabilità che Yilmaz abbia ragione, considerando i piani architettati in passato. La scena si sposta nuovamente su Fikret, che è tornato sul luogo in cui è stata trovata la valigia, li coordina le operazioni di ricerca, chiedendo ai collaboratori di Fecheli di perlustrare l'intera zona, perché se Beice è stata sequestrata, non può essere molto lontana. Nel frattempo, vediamo di nuovo Mujgan, ansiosa, chiedere alla domestica di portarle un bicchiere d'acqua, mentre questa si dirige in cucina, scambia qualche parola con l'altra domestica. Quest'ultima afferma che sicuramente si tratta di un piano escogitato da Beice, poiché qualche giorno prima l'aveva sentita al telefono parlare con qualcuno, organizzando un incontro all'aeroporto, per poi proseguire con il piano. La domestica ascolta attentamente, ed esorta l'altra a riferire tutto a Fecheli. La scena si sposta su Beice, che in fin di vita si trascina faticosamente verso un luogo meno isolato, lungo la strada principale. Con grande sforzo, si avvicina al bordo della strada. Fikret e la sua squadra, non avendola trovata, decidono di interrompere le ricerche e tornare a casa, ma appena Fikret, sulla via del ritorno, nota un corpo agonizzante sul ciglio della strada, scende immediatamente dalla macchina, e si rende conto che quel corpo sanguinante, in fin di vita, è proprio di Beice. Senza esitazione, la carica immediatamente in macchina, e si dirige verso l'ospedale. Beice ormai è priva di sensi e in condizioni critiche, Fikret chiama Mujgan a casa, e con voce tremante le dice che hanno trovato la zia, ma purtroppo si trova in una situazione critica. Sconvolta, Mujgan lascia cadere la cornetta. Proprio in quel momento arrivano Fikli e Yilmaz, e prendono la cornetta, chiedendo a Fikret maggiori dettagli. Fikret spiega loro che Beice è stata gravemente ferita e versa in condizioni critiche. I tre si precipitano all'ospedale. Mujgan, in evidente stato di agitazione, ferma il primario e afferma che desidera partecipare all'operazione per salvare la zia. In preda alla disperazione, urla che è colpa di Fikli se la zia è in pericolo di vita, poiché è stato lui a cacciarla di casa. Non soddisfatta, si scaglia anche contro Yilmaz, facendo una dichiarazione pesante. Tu hai assoldato qualcuno per ucciderla, perché credi a Zuleia e pensi che sia stata lei ad uccidere Akka Unkar. Yilmaz e Fikli rimangono attoniti dalle accuse appena sentite, e vengono cacciati da Mujgan. Fikret si avvicina prontamente a Mujgan, cercando di abbracciarla e confortarla. Tuttavia questo abbraccio non passa inosservato ad un'infermiera che con uno sguardo malizioso capisce che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più profondo. Quale sarà il destino di Beice? Mujgan ritratterà le sue affermazioni, o manterrà la stessa opinione? Vuoi scoprire come continua? Scrivete qui sotto e vi prepareremo un coinvolgente video con lo sviluppo della storia. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un bel like al video. Grazie, e a presto!